Oggi è il 19 luglio, ricorre l'anniversario della strage di Via D'Amelio e l'estasera sarà anche al San Carlo per un'iniziativa proprio in ricordo delle vittime. A me dispiace che quest'anno, dopo una mia abitudine di cui ero particolarmente contento di essere a Via D'Amelio, a Palermo, il 19 luglio, quest'anno non posso esserci anche per le situazioni gravi che stanno accadendo nei nostri territori, a cominciare dagli incendi, poi c'è l'accordo di Bagnoli oggi e altre cose. Quindi da Napoli l'abbraccio forte e affettuoso di tutta la città, la famiglia Borsellino e delle donne e gli uomini della scorta che hanno perso la vita il 19 luglio del 92 e che ancora attendono la verità. Napoli però ricorda anche con iniziative, in particolare c'è un'iniziativa importante al San Carlo e un'altra dopo in serata con tanti artisti al Maschio Angioino. Noi siamo convinti che a distanza di tanti anni ancora non si sappia la verità fino in fondo su quella che appare sempre di più essere una strage di Stato. Paolo Borsellino è stato lasciato solo in quei momenti, Paolo Borsellino aveva individuato probabilmente chi erano gli autori della strage di Capaci, quali erano i mandanti e credo che avesse anche individuato l'inizio della trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. Quindi il nostro Paese deve avere la forza di trovare la verità fino in fondo, perché un Paese che non riesce a trovare la verità sulla trattativa tra pezzi di Stato e mafia non potrà mai essere fino in fondo uno Stato di diritto e un Paese democratico. Quindi non lo si deve solo alle vittime, ma lo si deve a tutto il Paese che a sua volta parte l'ESA di quello che è accaduto. Grazie.